Ok, didattici. Che succede che a un certo punto Eitard deve dichiarare il fallimento? Dice ok, io ci ho provato, sono stato davvero bravo, ma non ci sono riuscito. Ma non è che non ci sono riuscito a farlo parlare perché io non sono un abilissimo medico, ma non ci sono riuscito perché il suo periodo sensitivo del linguaggio è definitivamente chiuso. Oggi le ricerche dimostrano che se un bambino non viene esposto al linguaggio entro i primi 12 anni non parlerà mai più. La Montessori che sarà andata a fare un viaggio in Francia per capire tutti i studi, per approfondire gli studi di Tard, prende tutta questa informazione che le interessa moltissimo e la collega a un'altra informazione che aveva acquisito. L'altra informazione era stata divulgata da Devrier. Devrier era un entomologo olandese, cioè studiava gli insetti. Quello che a un certo punto Devrier scopre è che alcuni insetti hanno delle facoltà speciali. In alcuni momenti della loro vita loro sono attratti da delle esperienze e quelle esperienze sono fondamentali per la sopravvivenza, cioè sono il gradino per accedere al gradino successivo evolutivo. Se il gradino viene saltato, l'animale, l'insetto potrebbe morire. L'esempio che viene riportato è quello della farfalla comune. Allora, la farfalla comune depone le sue uova sotto le foglie più grandi della pianta. Qua sotto. Lo fa perché così sono protette gli agenti atmosferici e dei predatori. Nel momento in cui il bruco nasce, lui segue la luce, va verso l'alto. E va verso l'alto perché qua su, lui sembra che, allora, ai suoi occhi sta seguendo il sole. Cioè, se il bruco potesse parlare, ti direbbe, io sto seguendo il sole, seguo la luce, ok? In realtà, l'evoluzione gli ha detto, vai su perché su ci sono le foglie tenere. Cioè, le foglie che per quello che è il tuo sistema digestivo attuale, tu riesci a digerire. Nel momento in cui il bruco sviluppa, matura, diventa adulto, per cui il suo sistema digestivo può digerire anche queste foglie più dure, il bruco diventa completamente cieco e quindi può andare in giro per la pianta dove vuole. Cosa significa? Che se io scienziato, prendo questo bruco, lo metto in una scatola, tolgo il sole e metto una lampadina qui, ok? Ok? Il bruco mi va qua. Questo significa che io non permetto al bruco di utilizzare il suo periodo sensitivo per la sopravvivenza. Lo depisto e lo porto alla morte. Ecco, la Montessori, che aveva fatto tutti questi, dice, cavolo, è molto interessante. Credo proprio che anche i bambini abbiano dei periodi sensitivi. E in effetti, anche i bambini hanno dei periodi sensitivi. E la Montessori dice, i periodi sensitivi dei bambini, a differenza degli animali, allora, mentre negli animali, negli insetti, il periodo sensitivo non ascoltato, non rispettato, mette a repentaglio la sopravvivenza fisica, nell'essere umano il periodo sensitivo non rispettato, non ascoltato, mette a repentaglio la sopravvivenza psichica. Perché alla sopravvivenza fisica ci pensano gli adulti. Quindi, il bambino non deve seguire una luce per alimentarsi. È l'adulto che lo alimenta, è l'adulto che lo cambia, è l'adulto che lo nutre, è l'adulto che lo scalda, ok? È il mondo esterno che si preoccupa della tua sopravvivenza fisica. Della tua sopravvivenza psichica sei tu che cerchi disperatamente, attraverso questi strumenti che la natura ti dà, di creare armonia. Ma bisogna vedere che attentati educativi subisci dal mondo esterno. I periodi sensitivi che la Montessori identifica sono movimento, linguaggio e ordine. Io a questi tre aggiungo anche autonomia e contatto. Partiamo dall'ultimo, dal contatto. Io aggiungo il contatto perché credo che sia particolarmente rilevante ricordare che il bambino ha necessità di contatto fisico. È fondamentale. Io sono particolarmente turbata, potremmo dire, dalle mamme che sono orgogliose di riuscire a fare qualsiasi cosa dopo che i loro bambini nascono, come se non fosse successo niente. Quindi di riuscire a lavorare tantissimo, di riuscire a lasciare i bambini a due mesi e partire ad andare in viaggio. Ecco, sono probabilmente i genitori che non sono completamente consapevoli di quelli che sono i meccanismi evolutivi di un bambino. Un bambino ha necessità di stare con i genitori, ha necessità di stare con la madre. Certo che il bambino può stare tranquillo se la madre non c'è, perché si adatta alla situazione. Ma il bambino ha necessità per la sua stabile costruzione psichica di contatto. Cioè, il passaggio tra mondo intrauterino e mondo esterno deve essere graduale. Graduale al punto che la Montessori, già inizio novecento, diceva che la nascita dovrebbe venire in un luogo caldo, buio. Dovrebbe essere l'ambiente circostante a scaldare il bambino. Quindi quando il bambino nasce dovrebbe rimanere nudo. Perché proprio come una cucciolata si raffredda, se il cucciolo viene tolto, la cucciolata si raffredda, ok? Anche il cucciolo di uomo si raffredda se viene tolto dal corpo della madre. Perché c'è un passaggio da zero a cento, ci si arriva gradualmente. Se fino a un dato momento, cioè la nascita, è stato il mondo esterno a scaldarmi, servirà tempo affinché io inizi ad avere la mia termoregolazione ben strutturata, ben definita. Quindi dovrebbe essere il mondo circostante a scaldare il bambino. Pensate che lei ad esempio, sempre nelle sue intuizioni, riguarda il parto, dice quando il bambino nasce, un corpo che non è mai stato toccato, un corpo che non è mai stato manipolato, dovrebbe essere sfiorato con delle amache. Che se ci pensate ricorda moltissimo la fascia. Io credo che dal punto di vista pratico, quello che serve a una mamma, una famiglia, quando il bambino nasce, è niente. Solo la fascia. Non serve niente. Io toglierei anche i trighi, gli ovetti, le ovette per la macchina, no ovviamente. Però la carrozzina sono tutti oggetti inutili se ci pensate. Sono dei surplus. Il bambino ha bisogno di sentire il contatto materno. Pensate che con un cucciolo di gorilla bisogna stare due anni con la mamma. Se questo cucciolo viene tolto dal genitore e non riceve un sostituto, il cucciolo muore. Non so se avete mai letto tutti gli studi di Anna Freud, negli orfanotrofi. I bambini negli orfanotrofi che non venivano toccati morivano. La mortalità infantile nell'orfanotrofi era altissima. In alcuni casi arrivava al 100%. I bambini che stanno dentro casa, i genitori ce li hanno, sopravvivono fisicamente. Bisogna vedere psichicamente cosa succede. Poi ho letto anche una cosa molto interessante sulla rivista Uppa. Adesso non ricordo esattamente quando. Comunque parlavano delle coliche. Dicevano che non c'è ancora una definizione comune riguardo quelle che sono le coliche. Non si è capito esattamente cosa sono, come partono, come funzionano. Però c'è un dato interessante che i bambini che vengono tenuti in fascia, ad esempio, hanno una percentuale inferiore di coliche. Cioè, se è vero che la termoregolazione il bambino non ce l'ha subito, ma dipende dal mondo esterno, cosa succede? Che io bambino, mangio, vengo messo nella culla o nella carrozzina, mi raffreddo. Se mi raffreddo ho un'indigestione. Sono in digestione e sto male, ho la colica. Se io mangio e rimango dentro la fascia di mamma, a contatto con mamma, con il calore suo, che diventa anche il mio, io la colica non ce l'ho. Comunque su questo vi lascio la riflessione aperta. È una cosa molto interessante, ho provato a fare un po' un'indagine tra tutte le persone che avete intorno, tra chi ha avuto coliche e non coliche, cercate di chiedere come il bambino è stato seguito e quanto contatto c'è stato con la mamma. Poi vi dicevo, gli altri periodi sensitivi sono quindi movimento, linguaggio, ordine e io aggiungevo contatto, autonomia, contatto, ve l'ho detto, adesso andiamo sul movimento. Il movimento, lei lo intuisce come periodo sensitivo, ma la persona che più di tutti è riuscita a studiare in maniera dettagliata, precisa, puntuale, affascinante il movimento dei bambini è Amy Pickler. Amy Pickler è stata una pediatra ungherese che ha lavorato nei griffanotrofi. Amy Pickler ha dedicato la sua vita professionale allo studio dei movimenti intermedi e allo studio della cura dei bisogni primari dei bambini. Quindi sonno, cambio, pasto. Quello che lei dice del movimento è che il corpo del bambino è un meccanismo perfetto, che ha un'evoluzione scritta dentro, ok? Il bambino sa come si evolve, il bambino sa come si deve muovere, deve solo essere messo nelle condizioni di poterlo fare. E lei insiste particolarmente su tutta questa importanza, ecco, dello sviluppo naturale motorio, perché se il bambino è fuso con la sua psiche, ogni messaggio che il corpo costruisce è un messaggio anche per la psiche. Cioè il bambino che riesce a evolversi senza turbamenti esterni, senza continui interventi a gamba tesa da parte dei genitori, senza continui blocchi. È un bambino che sta mandando la sua psiche, il messaggio, io ce la posso fare, io sono in grado, io sono abile. Perché, Berna direbbe io sono ok, è un bambino che sta costruendo una buona stabilità emotiva. Quello che succede oggi è che i bambini spesso non vengono lasciati liberi di esprimersi dal punto di vista motorio. Questo perché ci sono sicuramente tante paure e ansie, ma anche perché c'è moltissima ignoranza riguardo a come si sviluppa un bambino. Adesso proviamo a vedere molto rapidamente come lo sviluppo motorio. Allora, quando un bambino nasce, la prima cosa che fa sono tutti i movimenti un po' disarticolati, ok? Se guardate un bambino di qualche giorno, settimana, fa dei movimenti un po' scordinati. Poi piano piano inizia a coordinarli e se li guardate fanno movimenti tipo a cavatappo. Quindi braccia e mani che vanno su e giù insieme. Dopo questi movimenti il bambino inizia sempre più a guardare il mondo circostante perché la sua vista sta migliorando. In queste fasi il bambino, allora, inizialmente dovrebbe stare su delle ceste. Non so se avete mai sentito le ceste montessoriane, sono le ceste di Vimini e comunque uno lo può anche replicare in altri modi. Cioè, bisognerebbe tenere il bambino in uno spazio inizialmente non esagerato. Il bambino ha una vista ridotta. Se io prendo un bambino di una settimana e lo metto sul tappeto per terra in mezzo a questo mondo che per lui è tutto offuscato, non si sente particolarmente a suo agio, potrebbe iniziare a piangere. Quindi c'è bisogno di una fase in cui il bambino è ancora un po' contenuto, raccolto. Se ci pensate, se io sono stato per nove mesi dentro un luogo che era strettissimo e ogni volta che io muovevo le mani, toccavo una parete, ho bisogno per entrare nel mondo di un passaggio graduale dove ancora sono un po' circondato, circondato positivamente, sono avvolto diciamo, e piano piano il mondo si allarga. Grazie a Oneger Fresco, che era un allievo diretto alla Montessori, diceva che la libertà è un cerchio che cresce intorno al bambino. All'inizio è strettissimo e poi piano piano si allarga con lui. Ecco, immaginate anche la stessa cosa per la conoscenza del mondo. All'inizio è stretta stretta intorno al bambino e poi piano piano si allarga. Si allarga il suo campo visivo, si allargano le sue potenzialità, le sue possibilità. Quindi il bambino inizialmente sta in un luogo contenuto. Piano piano può iniziare a essere messo per terra. Quando sta per terra inizia a guardarsi intorno, guarda il mondo circostante e fa questi movimenti con la testa, guarda di qua, guarda di là e magari vuole raggiungere qualcosa. Arriva il momento in cui il bambino, per sbaglio, per scelta, per tentativi, riesce a rotolare. Si ritrova a pancia sotto, lancia una gamba e si ritrova giù, girato. A quel punto è schiacciato a terra. Quindi avete presente quando rimangono così? Ecco, il movimento che inizia a mettere in atto quando si ritrova a pancia sotto è spingere con le braccia. Il suo istinto gli dice di spingere per riuscire a tirare la sua testa e riguardarsi intorno, o anche per girarla semplicemente prima di ricadere. Questo è l'unico momento in cui secondo me il bambino potrebbe essere rimesso indietro, perché è una posizione in cui lui ancora non possiede totalmente la reversibilità. Non riesce a tornare indietro. E quando prova molta frustrazione è giusto aiutarlo. Comunque, tornando alla sua posizione prona, quello che fa è stare giù, spingere con le braccia e poi inizia piano piano a strisciare. Cioè, vedo una cosa davanti a me e striscio. E rotolo, 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 rotolo. Quindi, piano piano acquisisco la reversibilità. E mi sto già spostando, mi sto già muovendo. Un bambino che rotola, raggiunge quello che vuole, rotolando, rotolo, rotolo, faccio perno sul mio corpo, faccio una torsione, rotolo, rotolo, alla fine la raggiungo. Oppure striscio, striscio, striscio. Questi movimenti precedono solitamente il mettersi seduti. Perché un bambino, una volta che sta a pancia in sotto, inizia a fare, oltre questi spostamenti, inizia a fare altre due cose. che o spinge le braccia, spinge, 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 e a un certo punto scivola di lato e si siede. Oppure spinge, tira su il sedere e si ritrova gatto.